Il megafono organizza l'orgoglio siciliano per la difesa dello statuto, per la dignità, per il lavoro e lo sviluppo, per dare un nuovo slancio alla Sicilia. Vi aspetto tutti sabato 14 novembre alle ore 10.30 a Catania alle Ciminiere. Mi raccomando tutti insieme per un nuovo slancio alla Sicilia, per affermare la grande dignità del popolo siciliano. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS